Per la direttora del COFI di Puglia, Teresa Pellegrino, l'iscrizione del Consorzio degli Artigiani nell'elenco generale degli intermediari finanziari è un passaggio storico per le imprese regionali. L'importante traguardo è stato annunciato in un incontro alla Camera di Commercio di Bari alla presenza di Nicola Fratoianni e Loredana Capone, assessori rispettivamente alle politiche giovanili e allo sviluppo economico. Un risultato ottenuto grazie al sostegno di Regione Puglia e CNA, Confederazione Nazionale Artigiani. Cosa cambia rispetto al passato? Grazie agli oltre 70 milioni di euro erogati dalle banche alle imprese socie, la COFI di Puglia ha ottenuto l'iscrizione all'articolo 107 del testo unico bancario per assicurare maggiori garanzie finanziarie alle imprese. Da oggi dunque la COFI di sarà controllata dalla Banca d'Italia come avviene per gli istituti di credito. Il passaggio dell'iscrizione all'articolo 107 rende COFI di Puglia unica struttura del genere in Puglia rispetto alle 50 sparse in tutta Italia. 86 invece i consorzi a sostegno delle imprese iscritte all'articolo 106 ovvero non sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Che cosa significa in concreto questo per le imprese? Praticamente le imprese a parità di patrimonio la nostra garanzia ha un valore superiore a quella dei 106 in quanto essendo vigilati la Banca d'Italia vigila che il capitale sia conforme alle garanzie prestate.